16 sono le persone identificate dalla polizia e denunciate in stato di libertà dalla procura di Foggia per i fatti avvenuti durante la gara tra Foggia e Avellino risalente al 7 novembre 2022. Gli approfondimenti svolti dalla polizia che ha raccolto e visionato tutto il materiale video reso disponibile ha portato al riconoscimento di 8 ultras del Foggia e 8 dell'US Avellino ritenuti responsabili a vario titolo in concorso tra loro del copioso lancio di artifici pirotecnici e di altri oggetti pericolosi tra i due settori contrapposti dell'esplosione di numerosi petardi. Queste nuove denunce si somma nelle prime indagini già compiute dalla polizia che ha portato all'arresto i due ultras del Foggia a quali era stato notificato il DASPO della durata di tre anni. Tornando ai fatti durante la partita tra Foggia e Avellino al trentesimo minuto del primo tempo la gara è stata sospesa per cinque minuti per lancio di fumoggini e petardi tra le tifoserie che hanno portato il direttore di gara ad interrompere il match. Scene brutte per una partita di calcio dovrebbe essere vissuta all'insegno della rivalità e della golerdia escludendo qualsiasi forma di violenza. Non è da escludere che in futuro possano esserci ulteriori provvedimenti nei confronti delle due tifoserie coinvolte.